Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Aggi ragazzi siamo con un video specialissimo su FIFA 21 Ricordanti le news di FIFA 21 Ma più che news siamo proprio con una vera ufficialità Gli overall ufficiali I 100 giocatori più forti di FIFA 21 Quindi una reaction Ne ho visto qualcuno spulciandoli così era impossibile non vederli Sono usciti tutti insieme Innanzitutto vi chiedo 30 like se volete altri video del genere Comunque arriveranno su FIFA 21 Dimostrate il vostro supporto Commentate qui sotto con quali altri video volete appunto Sugli overall di FIFA 21 Magari gli overall più giusti, più sbagliati, più scandalosi Gli overall i più forti della serie A, della Premier Comunque noi oggi vedremo i 100 più forti in generale E vi dirò cosa ne penso Voi appunto mettete 30 like e commentate anche voi su cosa ne pensate con i vari overall Vabbè qui lo sfondo è un po' diverso però non cambia nulla E niente devi non perderci in troppi chiacchiere Solvoleremo un po' di giocatori Ma comunque quelli che ci interessano di più ne parlerò un po' di più Per non rendere il video troppo lungo E voi commentate anche su un... Se avete opinioni contrastanti o magari uguali alle mie Noi andiamo direttamente sul sito dell'IA Eccoci ragazzi siamo direttamente sul sito dell'IA Partendo dall'ultima posizione Siamo ora vabbè per vedere i 100 giocatori più forti di overall su FIFA 21 Alan 84 Ci sta sarà un trattore un fenomeno ci sta tutto Ericsson 85 Downgrade giustissimo ha giocato poco Buone statistiche Alexandro 85 Campa un po' di renti da buone statistiche Non è fortissimo forse come gli altri anni Ora ci sta Kyle Walker 85 Baggatissimo Mauro Riccardi che Campa di rendita 85 Quest'anno ha giocato pochissimo Però vabbè Ha ovviamente un buon tiro Velocità Vabbè non sarà utilizzato da nessuno Già lo sappiamo Godin 85 Anche lui campa mezzo di rendita Non ha fatto una grande stagione Anzi non ha mai giocato Alderweire 85 Downgrade di 1 Credo già lo ero 85 Gulaxi 85 Vabbè arrivato al termine di Champions Non ci sta Rodri 85 Bene su FIFA lo usano in veramente pochi Però ci può stare De Jong 85 Ne upgrade Ne downgrade per lui Ci può stare Bonucci 85 Che solita carta inutilizzabile Lengle 85 Rimane invariato l'anno scorso Solito bacchiato nel legno Come l'anno scorso Sicuramente Lengle 85 Upgrade di 1 Sbaglio Ditemelo qua sotto nei commenti Mertens 85 Downgrade Dato giusto Carta comunque fortissima Guardate che dati ragazzi Koke 85 Va bene Non ha fatto un'ottima stagione Non ha fatto un'ottima stagione Però Gran passaggio Però Carta inutilizzabile Skriniar 85 C'è un'ottima stagione Sbagliissimo secondo me Anche nella realtà Tiago Silva Downgrade a 85 50 Neve velocità Mezzo No Senza mezzo Inutilizzabile E anche un po' a farlocco Un po' di velocità in più La prima aumentata Delicto 85 Stagione non buona Ci sta l'Oroli Fenomenale Ma Da un gridato Vabbè Marco Reus 85 Ci sta Non grandissima stagione Ziac 85 Resta sul suo roll Donnarumma 85 Secondo me Donnarumma Ragazzi Tutto il bene È giovane È forte Tema 85 Ancora un po' tanto Lascerei 84 Se non 83 Guardando gli altri portieri Depay 85 Ci sta tutto Marez 85 Ha fatto una grande stagione No forse 86 Non lo so Ditevi che qua sotto Luiz Alberto 85 Anche nonostante La grande stagione Resta invariato Il suo overall Ci può stare Cioè Certi giocatori Comunque sono forti Quanto lui Se non di più Kayavers 85 Upgrade Meritatissimo Carta Molto buona Tiago 85 Downgridato Anche questo Non si capisce Perché ha appena vinto La Champions League Però va bene Lukaku Un'altra cosa Che non capisco 85 Insieme a Werner Due giocatori Che hanno fatto Una grandissima stagione Werner ha addirittura Un gradato Lukaku Ne ha nemmeno Un gradato Io regalmi In 86 L'avrei messo Minimo E poi C'è alcuni dati Lukaku è più veloce Lukaku ha tanto fisico Però vabbè Marchinho Su 85 Cioè posso stare Pure 86 Non era malvagio Forse Gnabri 85 Pure lui 86 Non era malvagio Soprattutto perché Sombra era 86 Non lo capisco Non vedo Il Gladbach Però non mi sembra Sia questo grandissimo fenomeno Jordi Alba 86 Regà ho visto Marcello che era 83 Jordi Alba tutto il bene Ma anche lui 85 Stata stagione Stagione anche lui Non è che ha fatto Chissà che Però va bene Continuiamo Rafael Varane La sessantesima Musizione 86 Solito baggatone Tra velocità Difesa Fisico De Gea Da un grito 86 Ci sta tutto Ragazzi De Gea Di una volta David Silva 86 Cioè posso stare Mats Hummels 86 Va bene Carvalho 86 Giustissimo Jordan Endes 86 Giusto Giusto Carta Magari un altro tozzo Sarà pure utilizzabile Così ancora no Il Papu 86 Grande stagione Del Papu Ci sta Pichè 86 Da un grito Ci sta tutto Verratti 86 È arrivato in finale Champions Era pure rotto Quindi ci può stare Paul Pogba Da un grito Di 1 86 Non ha fatto Una grande stagione Quindi ci può stare Anche lui Per un momento Di scandali enormi Non ce ne sono Enormi E poi un paio Di cose L'avremo riviste tutti Jamie Vard 86 Ci posso ancora stare Grande stagione Anche questa Di Parti Che si conferma Un grande attaccante Miller 86 Anche lui Stace Ugo Iori 87 Va bene Passiamo agli 87 Come Chiellini 87 Che con l'infortunio Ci sta Secondo me Chiellini resta un fenomeno Buschezza Il Campadire Endito 87 Però Buschezza Ragazzi Ha dettato le geometrie Del Barça Da anni ormai Keylor Navas 87 Buona stagione Buonissima stagione PSG Devo dire Fabigni 87 Roberts Sono 87 Meritatissimo Bernardo Silva 87 Che ci sta E Bobby Firmino 87 Giusto Voicexcesni 87 Giusto Laporte 87 Si è infortunato Purtroppo Però resta Molto forte Griezmann Da un greta 87 Giusto È un ATT Adesso Prima Quest'anno Mi sembra Fosse AT Però Piccole Accortezze Ci sta La carta Ancora mezza Utilizzabile Alexander Arnold Fenomeno C'è 87 Non capisco Questi dati C'è in realtà Passaggio Grandissimo Però ho aumentato Un po' La velocità Almeno 82 Però va bene Piccoli dettagli Suarez Da un greta 87 Ci posso Stare Però Tira ancora Fenomenale Anche altri dati Molto buoni Sonaldo 87 Carta Pazzesca Di Sonaldo Sancio Upgreta 87 La 34 Posizione Buonissima Carta Forse C'è Per essere Più Dezzabile 84 Di velocità Così come Di Maria 87 Però ci possono Stare Bruno Fernandes 87 Grande Acquisto De lo United Grande giocatore Obama Young Questa è un'altra Piccola Nota dolente Non ce ne sono Troppissime Altafinatore Già abbiamo Scorso 70 posizioni 87 Da un gridato Ragazzi Prima di lui Si è Ha vinto La community Shield E il coso E la F.I.G.A.P. Da solo Un altro po' Poi i dati Sono fenomenali Io l'avevo Lasciato Come minimo 88 Se non Ha gridato Però vabbè Ciro Immobile 87 88 L'avrei Mezzo rischiato Perché ragazzi Scarpador Rigori Non rigori Ricorobile Quello che vi pare Ma scarpa d'oro E non è proprio Da tutti i giorni Però anche 87 Ci sta Niente da dire Modric 87 Downgrade giusto Cullibali 88 Cullibali resta normale Strano O era 89 Fatemelo sapere E fatemelo sapere qua sotto Perché se ha downgradato Ci sta Se l'hanno lasciato 88 No Forse Un downgrade Se non meriterebbe Andanovic 88 Giustissimo Fenomenale Un golo Canter downgrade Downgrade Downgradato di Uno Io ho fatto per lui Una prediction Di 89 Però vabbè Non capisco in realtà Il vero downgrade È fortissimo Resta lo stesso Ederson 88 Gran portiere Paolo Di Bala 88 Bella Bella carta Giusto anche l'overall Sterling anche per lui Giusto E Eden Hazard Downgradato Giustissimo Per la stagione Non bellissima Ok ragazzi Top 20 Magari i primi 10 Ci li vediamo anche più Nel dettaglio Ventesima posizione Spero lo vediamo bene Toni Kroos 88 Overall Cioè Volecità Solita Scandalosa Inutilizzabile Joshua Kimmich 88 Fenomenale Giustissimo Thibaut Courtois 89 Voglio dire Giusto Perché ha fatto una stagione Ragazzi Quest'anno ha seguito Abbastanza il Real Madrid Anzi Tanto Fenomenale Questo è tornato il Courtois Di una volta Se non più forte Perché avevo tutto Aspetta voi li dico Questo è tornato il Courtois Di una volta Se non ancora più forte Io ve lo dico Casemiro 89 In realtà lui 89 Mi pare un po' tantino Forse 88 È giusto Questa stagione Non è stato meglio di Kroos Però Non è nemmeno lui scandaloso Karim Benzema AT 89 Giustissimo Ragazzi Benzema Stagione della Madonna Della Madonna Purtroppo Non sono andati avanti in Champions Ma non è di certo colpaso Lui ha dato tutto Per tutto Sergio Aguero Anche lui attaccante 89 Buona carta La sua Non velocissima Però con qualche versione È molto utilizzabile Manuel Neuer Quattordicesimo 89 Resta un gran portiere Appena vinto il triplete Praticamente Sergio Ramos Anche lui grandissima Stagione 89 Meritato forse anche 90 Ragazzi Quest'anno Ha pure segnato un botto Oltre che difeso Benissimo Alisson 90 Quindi passiamo Ai 90 Alisson Che gli elevi Grandissima carta Ma è giusto Comunque i portieri So sempre quel che so Su FIFA Li conosciamo Così come Ter Stegen Top 10 Sadio Mané 90 Carta Fenomenale 94 velocità 85 Di tiro 80 passaggio 90 dribbling Vabbè 76 pure di fisico Che è tanto Diventa un fenomeno Fenomeno Tutte le Premier League Con Sadio Mané Sicuro Così come con Mohamed Salah Secondo me Salah è meno Baggao di Mané Su FIFA Ma è fortissimo Anche lui Fenomenale Fenomenale Ottava posizione Kylian Bappe 90 Che gli devi di A sta carta Che gli devi di Guardate che carta Guardate che carta Pazzesco Settima posizione Van Dijk 90 Quindi È rimasto uguale Stato da un gridato Non me lo ricordo Nemmeno lui Comunque Fortissima Questa carta Sesta posizione Oblak Vabbè 91 i portieri Ripeto Diventa però Credo il portiere Più forte del gioco Neymar Quinta posizione 91 anche lui Da un gridato Di 1 Se non sbaglio Ricordatemi Questi che non me li ricordo Non li ho rivisti Carta che resta Fenomenale Quarta posizione Kevin De Bruyne Ovvero il giustissimo 91 Carta pazzesca E il KDB Che giocatore Top 3 ragazzi Con Robert Lewandowski Quello che avrebbe dovuto Vincere a mio parere Scrivetelo anche voi Qui sotto Il pallone d'oro Con una grandissima carta E quest'anno Sarà pure molto più Utilizzabile Rispetto agli altri anni E ora arriviamo Ragazzi alla fine Con i primi due giocatori Qui vediamo il primo Magari chiudiamo E vediamolo insieme Entrambi downgridati Ambe due Però Il più forte La stella lo stesso Lionel Messi Primo giocatore Di overall Su FIFA 21 Cristiano Ronaldo Il secondo Rispettivamente Il loro overall 93-92 Secondo me ragazzi Questo deriva Come lo scorso anno Dalla partnership Mancata Infatti c'è ancora Il Piemonte calcio Se no ragazzi Ronaldo sarebbe A pari Overall di Messi Secondo me Su FIFA Statistica Ragazzi Messi Molto Più lento di Ronaldo 4 punti Sono messo tanti Ronaldo anche più tiro Vabbè Messi Passaggio incredibile Dribbling 95 Non l'avevo visto Ma è pazzesco E vabbè Fisico ragazzi Ronaldo 77 Cioè Scusate Ronaldo 77 Di fisico Mbappé 76 Salah 75 Ma nei 76 Qui avrei un po' Da ridire Però Le conosciamo Ste cose Nulla di scandaloso Anche perchè Mettere un giocatore 89 di velocità Con tutto quel fisico Poi romperebbe il gioco Anche se il giocatore È più forte del gioco Effettivamente Dopo Messi Però va bene Dunque ragazzi Per questa reaction Comunque A questi overhaul Di FIFA 21 Può essere tutto Reazioni Dopo Aver visto gli overhaul Devo dire Niente di così scandaloso In questi top 100 Quest'anno Rispetto agli altri anni Qualche cosa ragazzi La cambieremo tutti Ovviamente Però Note Cioè Note Pazzesche Proprio Incredibili Tipo Cristiano Ronaldo 22 di overhaul Non si sono viste Estranamente Poi ovviamente Da un paio d'anni Ci rendiamo conto Che i giocatori Possono avere di overhaul Quanto vi pare Poi Se è rotta la carta È tutta un'altra storia Oppure se la carta È scandaloso Tipo Toni Kroos Buschezze E cavoli vari È inutile Per questo video Vi chiedo 30 like Commentate qui sotto Con Tutti i vari overhaul Che vi ho chiesto Quali altri video vorreste Su questi overhaul E su Fia21 Io ragazzi Vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti